Ciao Manuel, vuoi dire qualche cosa di particolare? No, siamo a posto. Racconta un po' dove siamo, perché ci siamo. Siamo nel trullo. Siamo nel trullo. Adesso ve lo facciamo vedere. Trullo lì qua. Nessuno nel trullo. E come mai sei nel trullo? Come ci sei finito in un trullo? Mentre io intanto salgo verso il tetto del trullo. Per il regalo della laurea. Per il regalo della laurea, cioè? La parte della compagnia. Wow! E' wow, sì. E come puoi vendirlo? Abbiamo scelto il trullo. Sì, molto. Perché bisogna dire che ti hanno regalato un confanetto Smartbox. Dopo essere stati, diciamo così, impegnati con i corsi. Nel frattempo questa era la nostra piccola cucina, con il lavello. Dopo essere stati molto impegnati con i corsi, diciamo che ci siamo potuti finalmente rilassare, dedicare alla scelta della destinazione del confanetto, di cui esufruire. E alla fine, esatto, siamo finiti qui. Siamo in Puglia. Ci troviamo tra Martina, Franca e Ceglie Messapica. Siamo più vicini a Ceglie Messapica, mentre vedete il trullo del tetto esterno. Una parte del giardinetto. Adesso spunto un altro trullo che presumibilmente servirà come deposito di attrezzi, perché qui siamo in campagna. Ci siamo divertiti, molto, soprattutto ci siamo rilassati. È vero. Tutt'oggi non abbiamo fatto un accidente di niente, che sia chiaro. Sì. La cosa più pesante che abbiamo fatto è stato prepararci il pranzo e la cena. Cena che consumeremo fra poco. Stasera, per cena, pasta fredda, con pomodorini, ciliegini e formaggio, patate, lesse, fredde, con un messo coltello che però spero non mangeremo. Beremo acqua. Ciao, Anna. Ciao. Vuoi aggiungere qualcosa? No, buon appetito. Ok, va bene. Buon appetito allora. Passo e chiudo.